Guarda, ti dico che giochiamo contro il Bissero, ma lo stai dicendo tu perché io neanche lo sapevo, ma non per qualcosa, perché noi ci parliamo settimana per settimana e quindi abbiamo lavorato, anche se non sul campo, ma con le parole, con gli altri compagni di squadra per affrontare questa partita. Ora, al di là di chi andiamo a incontrare, che per noi chiunque incontriamo non guardiamo né classifica né nient'altro, perché il livello ormai si è alzato, quindi tutte le partite si possono vincere, pareggiare o perdere. Lavoriamo per questo e lunedì cerchiamo comunque di poter portare avanti questo filotto.